A Isernia siamo a poche ore dall'atteso ballottaggio tra Meloji e Castrataro. Oggi è la consueta giornata di silenzio elettorale. Ieri sera intanto gli ultimi comizi. Location tra virgolette istituzionale quella scelta dal centro-destra nella sala convegni dell'Hotel Europa a sostenere Gabriele Meloji insieme ai vertici regionali dei partiti della coalizione i leader nazionali di Forza Italia in presenza Antonio Tajani per la seconda volta in pochi giorni a Isernia e collegato in diretta telefonica il presidente Berlusconi. Sull'altro fronte opposta la scelta anche della location. All'aperto sulla terrazza del bar centrale in pieno centro storico atmosfera più raccolta ma folla delle grandi occasioni al cospetto della quale Piero Castrataro, candidato del centro-sinistra ha incontrato i suoi simpatizzanti. Intanto in città si percepisce evidente la tensione dell'attesa prima del risponso delle urne. A proposito, domani, domenica 17 ottobre, seggi aperti dalle ore 7 alle ore 23. Lunedì 18 possibile votare dalle 7 alle 15. Qualche ulteriore informazione. Potranno votare tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali e quindi anche chi si è astenuto il 3 e il 4 di ottobre. Ma, a differenza del primo turno, al ballottaggio non contemplata la possibilità di esercitare il voto disgiunto e quindi di scegliere una lista collegata ad un candidato diverso da quello votato. Ai cittadini, infatti, sarà consegnata una scheda con i nomi dei due sfidanti in cui saranno indicate le liste collegate ad ognuno. Basterà tracciare un simbolo sul nome di uno dei due aspiranti sindaco per esprimere la propria preferenza, mentre resterà valido l'eventuale voto già accordato al primo turno ai candidati consiglieri.